In Serie C Gold il tandem di testa Oderzo e Jesolo ha ripreso a correre dopo i rispettivi scivoloni del turno precedente. Dal resto la giornata era di gran lunga favorevole per il riscatto, dovendo affrontare le ultime della classe. Niente da fare invece a corno di rosazzo per la Smecaorle, doveppure ha presentato il nuovo acquisto Alfredo Moruzzi, arrivato in settimana a rinforzare il reparto dei lunghi ormai orfano definitivamente di Buscaino, Nardin e Sadikovski. Tuttavia i litoranei sono scesi in campo privi del play titolare Luca Bovolenta, questo è operato per la riduzione di una frattura al setto nasale, il che ha costretto giocoforza Koac Ferraboschi a rivedere taluna situazione di natura tattica, facendo nuovamente della Smeca un vero e proprio cantiere a cielo aperto. Partita che comunque i gialloglu avevano iniziato bene, allungando nel primo quarto anche a più 11, salvo poi subire il parziale recupero avversario e chiudere alla prima sirena avanti sul 12-16. Al solito trascinati da Markovic e Kresner, autori rispettivamente di 18 e 13 punti, pur nel complesso di una serata da considerarsi dalle polveri bagnate, vista la bassa percentuale di realizzazione fatta registrare soprattutto nell'ultimo parziale, dove sono stati soltanto 11 i punti realizzati. Gli udinesi portano a termine l'operazione sorpasso ancora prima del riposo lungo, quindi la partita prosegue punto a punto sino all'ultimo quarto, dove sono soprattutto Munini e Braidot a fare la differenza in casa udinese. Il prossimo turno adesso riserva Padova, sfida assolutamente da vincere nel contesto di una classifica oltremodo corta, per non rischiare complicazioni in ottica playoff. Sì, sicuramente non è un periodo molto felice questo, da un punto di vista degli equilibri, degli infortuni, ed è un periodo in cui stiamo inserendo anche dei giocatori nuovi, stiamo giocando ed allenandoci in una palestra che non è la nostra, ci sono una serie di condizioni che sicuramente non ci aiutano. Nonostante questo, la partita con Corno di Rosazio, che non era sicuramente una partita facile, anzi direi un vero e proprio spareggio per poter conquistare punti importanti in vista della qualificazione di playoff, è stata una partita che ci ha visto tutto sommato rimanere agganciati agli avversari per quasi tutta la gara. È mancata sicuramente una percentuale al tiro, dove siamo stati veramente molto scarsi ed è mancata, e c'è stato un forte numero di palle perse. Questo sicuramente è condizionato dal fatto che l'assenza del playmaker titolare, Bovolenta, che purtroppo per la frattura al naso non l'ha potuto giocare, ha fatto sì che molti giocatori non potessero esprimersi come naturalmente fanno e quindi hanno dovuto giocare da playmaker quelli che di solito sono dei terminali realizzativi come guardie e altri esterni hanno giocato come lunghi in una condizione che è sicuramente atipica. Domenica arriva a Padova, si giocherà ancora una volta in campo neutro a Donone Veneto ed è uno dei tanti spareggi che menzionavi prima. Sì, sono tutti spareggi, la classifica come si può ben vedere è molto compatta, ci sono una decina di squadre in due punti di differenza, sono quasi tutte racchiuse tra i 16 e i 18 punti e quindi di settimana in settimana ci giochiamo un grande mattone per poter accedere ai play-off. Al di là della vostra condizione, cosa temi di più di Padova? Padova è una squadra giovane, una squadra talentuosa che può contare su una panchina molto lunga e che farà sicuramente della difesa e dell'aggressività la forza principale. Il campionato di Serie D ha confermato la leadership di Sacile, andata a vincere senza affanno sul perché della Cenerentola con Ars. In scia non perde un colpo Casas, che ha vinto sul proprio campo con il basket time Udine, fermando la corsa degli Udinesi alla zona play-off. Il risultato a sorpresa è stata la vittoria del sistema a Cusignacco, due risultati quest'ultimi tutti a favore dell'altra anima del Bivion, la palacanestro Portoguaro, che ha conquistato un prezioso successo in casa contro Aviano, confermandosi una volta ancora una bestia nera per i portenonesi. Due punti molto importanti in ottica play-off, Portoguaro ha imposto un ritmo forse nato sin dalle battute iniziali. Le triple di Fantuz, Labelli e Piesentin portano subito avanti Granada sul 20-3, toccando il massimo vantaggio di più 20 sul 43-23, con il quale si chiude il secondo quarto. Nella seconda parte di gara Aviano si scuota in qualche modo, sono i canestri di Vielle e Severino a far rientrare in partita i portenonesi. Bomben nell'ultimo periodo segna anche il canestro del meno 7, mentre Crestan fallisce il meno 5 a 1,30 dalla fine, ma ci pensa poi Piesentin a mettere in ghiaccio l'incontro con una tripla dall'angolo che fa esplodere il paralovisa. Avevo chiesto ai ragazzi di cominciare così anche perché venivamo da due sconfitte. Sapevamo di avere un tritico di partite difficili. Io speravo di vincere due su tre. Ci restava solo la vittoria con Aviano per sistemare un po' la faccenda. I ragazzi, ho fatto loro i complimenti per come hanno interpretato l'inizio della partita. Sapevamo che dovevamo aggredire Aviano, che aveva qualche assenza, che è una squadra che è poco abituata a giocare nei campi grandi, regolamentari. I ragazzi l'hanno fatto, poi le percentuali ci hanno assistito, ma credo che le percentuali siano figlie di un gioco e di una determinazione che abbiamo messo in campo fin dall'inizio. Poi nel corso della partita, con una squadra in difficoltà, che difende molto a zona, che non permette soluzioni semplici, li abbiamo fatti rientrare in partita e ci siamo un po' complicati la vita. Però alla fine, andati al più sette, abbiamo reagito e abbiamo concluso la partita. Indifferente era ribaltare la differenza Canestri, perché tra noi e loro in questo momento è importante solo lo scontro diretto per la formula del campionato. Per cui è un'ottima vittoria che ci porta con il morale alto a tricesimo. Con tricesimo che è praticamente una diretta concorrente, sotto a soli due lunghezze. Sì, si sono risollevati, hanno avuto qualche problema di infortunio all'inizio, ma il loro quintetto è di grande qualità. I primi cinque Marco Bravin, Alberto Sandrini, Clemente, Gozzi, tutta gente che ha giocato in categorie superiori e soprattutto che sa giocare a palacanestro. e possono essere risolutivi in qualsiasi momento della partita. Per noi è una partita capitale, perché vincere lì vorrebbe dire mantenere il 2-0 negli scontri diretti e staccarli di 4 punti che a questo punto del campionato dovrebbe dire avere un piede e mezzo dentro ai play-off. Per cui veramente speriamo di fare una bella settimana e un'ottima partita nel loro campo che è difficile. In Serie B femminile, la sconfitta maturata nello scontro diretto con il Treviso segna forse la definitiva resa per la polisportiva Concordia. Tanto che sebbene niente sia ancora matematico, si può già parlare di un'avventura sulla quale ormai stanno scorrendo con largo anticipo i titoli di coda. Trascinate da Speranzoni, autrice di 22 punti, le trevigiane prendono subito il largo, toccando anche il massimo vantaggio di più 11 nel corso del secondo quarto. Dopo l'intervallo lungo Concordia, in controtendenza con quanto aveva sempre mostrato nei precedenti incontri, quando era stato il terzo o quarto a segnarne la resa, reagisce e rientra in partita sino a ridurre il divario a meno tre, ma Treviso cambia nuovamente passo e grazie ad una serie di triple affossa in modo definitivo le bianco-rosse. Venendo alle categorie minori, in promozione sono il tè a segno a palacanestro Fossaltese e BPO Paschetta non è Veneto, rispettivamente a Maniago e a Fontana Fredda, Anonesi che adesso guardano tutti dall'alto della classifica, che peraltro continua ad essere cortissima. La Fossaltese insegue a quattro lunghezze, a Maniago i ragazzi di Coacigiollo hanno ritrovato gioco e convinzione nelle proprie possibilità, sapendo adesso di dover raggiungere quella continuità di rendimento che consenta loro di entrare in zona play-off. Sì, siamo tornati al successo dopo delle brutte sconfitte, ci abbiamo creduto fino alla fine, si è vista finalmente l'anima di questa squadra, di questo gruppo, e stando concentrati, facendo il nostro, abbiamo giocato, abbiamo portato a casa la partita. Una squadra che sta crescendo pian piano sotto il profilo del gioco? Sì, piano piano, molto piano, come si stava parlando in questo periodo qui, abbiamo un sacco di innesti nuovi quest'anno, a differenza del gruppo vecchio, è un anno e mezzo che ho cambiato un modulo di gioco, completamente, totalmente diverso da quello che era da anni qui, quindi non sono cose facili da mettere in piedi, integrando giovani, integrando nuovi innesti, come appunto da altre società, e quindi ci stiamo lavorando, poi vedremo quando riusciremo a essere completamente a regime. Il campionato piuttosto interessante, perché raggruppa la quasi totalità delle squadre, in pochi punti, con un po' di continuità, i play-off sono ancora alla portata? Sì, facciamo le corna, sono ancora alla portata, come possono essere anche i play-out, o come essere nella classifica di mezzo, e andare fuori subito a metà marzo, quando finisce il campionato, e poi fino a settembre il prossimo anno non si fa niente. Noi stiamo lavorando sempre di più, in palestra abbiamo avuto anche qualche acciacco, influenze, abbiamo avuto, ripeto, un periodo natalizio brutto, dove era soprattutto da lavorare, non siamo riusciti, quindi poi alla fine si paga tutto. E oltretutto il calendario è dalla vostra, perché le prossime partite saranno quasi tutte in casa? Sì, abbiamo un filone di partite in casa, dovrebbero essere cinque, ok, ne prendiamo una alla volta, perché il nostro problema maggiore, appunto, è il discorso della continuità, la testa, la concentrazione, sono tanti fattori che dobbiamo consolidare, prima di cantare vittoria. Quindi tranquillamente, ce ne prenderemo una alla volta, e vedremo poi alla fine cosa riusciremo a portare a casa. Domani sera, c'è lo scontro casalingua appunto, con il Fontana Fredda, una partita sulla carta, ampiamente alla vostra portata, visto che i portano tenesi sono la cenerentola di questo girone. Sì, però lo stesso sarà una partita ostica, come tutte le partite di questo campionato quest'anno, non ce n'è una da lasciare, come posso dire, da prendere con superficialità, non vuol dire niente che una sia ultima, penultima, questo non vuol dire assolutamente niente. Giocheremo, cercheremo di imporre il nostro gioco, i nostri ritmi, e poi vedremo cosa verrà fuori. Ballon Sesto, invece, martedì sera ha affrontato la Zano Basket, è arrivata una sconfitta per 43-55, che interrompe una serie di quattro vittorie consecutive. Gli arancioneri sono rimasti in partita per i primi due quarti, quindi a Zano ha scavato il solco vincente a rientro dopo l'intervallo lungo, che vale il terzo posto in classifica. Sì, per noi questa vittoria è importante, perché veniamo fuori da un periodo di debolezza, chiamiamola così, però questa sera abbiamo dimostrato di essere una squadra giovane, ma importante. in questo settore, in questo mondo del basket, della promozione, sono felice, sono contento dei nostri ragazzi, che si sono comportati veramente nel modo giusto, quello che avevamo chiesto durante la settimana, è arrivato, insomma, quindi hanno giocato bene, discretamente bene, e si sono impegnati, e hanno dato tutto quello che potevano. Sesto comunque è una bella squadra, abbiamo avuto difficoltà ad affrontarla, a superarla, perché è una squadra comunque che sta bene in campo, è importante, e sicuramente nel campionato riuscirà a dare anche molto di più di quello che fino adesso sembra abbia dato. Noi siamo felicissimi di aver vinto con il baloncesto perché è una squadra, secondo me, tosta e importante. Poi è un campionato decisamente corto, una vittoria in più, una in meno, cambia molto, si può passare dai play-off ai play-out, è un po' tutto da vedere. Sicuramente, dai play-off ai play-out è un attimo, una vittoria in più, una vittoria in meno, ti porta a rinunciare ai play-off o entrare nei play-out. Noi speriamo e stiamo lottando per arrivare almeno ai play-off, insomma, quello che siamo abituati da diversi anni ad arrivare e quindi per noi i play-off sono importantissimi. E allora coach, a volte magari ci si sforza di vedere qualcosa di positivo nelle sconfitte e questa sera c'è qualcosa di positivo in questa battuta d'arresto? Beh, è difficile trovare qualcosa di positivo. Diciamo che dopo quattro vittorie consecutive ci poteva anche stare una sconfitta, questo è il gioco. Diciamo che avevamo, venivamo da una decina di giorni dove non ci siamo allenati per mancanza proprio della palestra che hanno rinnovato le luci e ieri i ragazzi dell'Under 20 hanno giocato e vinto bene ma hanno preso un sacco di botte erano malconci abbastanza e dopo il secondo quarto avevamo giocato fino a quel momento non benissimo ma comunque avevamo tenuto il campo eravamo anche in vantaggio e abbiamo avuto un approccio al terzo quarto un po' dismesso e ci siamo fatti mettere un po' le mani addosso e ci siamo fermati e lì abbiamo preso quel break che ci siamo portati fino alla fine. Noi dobbiamo cercare di far bene di far crescere questi ragazzi qui questo era il nostro primo programma quest'anno non è che possiamo sempre pensare di vincere oggi non meritavamo di vincere perché noi abbiamo giocato però effettivamente abbiamo fatto un po' tutto noi non è che gli avversari abbiano segnato 80-100 punti siamo noi che siamo proprio mancati soprattutto al terzo quarto.